unità 1.8 unità 1.8 c'è per uscita per i stati chitani che siamo in una età attiva pagare la visita nelle cartelle c'era poi visto la visita nelle cartelle il sesso c'è per uscita era stunto ma che aveva fatto bus descintas, dviltas, tutta faccia a meggia, il neanche trintas poi giù in c'è che era un student che aveva una cartella ma ora trova c'è che era giù in trattato ad uscita cosa c'era? guarda se il poverde poi c'era mario o maria prima svaria se la vira andasse la motrice poi abbiamo usato i caliti c'era poverde rossi rossi che più sa che ora l'abbiamo si può aprirsi talo poverde rossi che più calmini o milanè rossi era per me o poverde darà per me i poverde o androi poverde e milanè era più calmini e poi adesso ho detto che ci si è musso risuovano e cercherete i passi osie che voi si sta facendo bus pina risuovano bene, dov'è risuovano altri minuti a te direme c'è italiano italiano, italiano c'è ma schierma, forma, italiano, virus, italiana, motrice e poi c'era Firenze ci siamo messi a spazio per l'estate ma per l'estate ma per l'unità 1.4 dai sinceti che sono in attrazione il tuo più potuto mettere il prossimo carità non aiutare il tuo tipo di pavadino ok? ci vediamo qui ci vediamo ci vediamo il nostro tipo di pavadino 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 ci sono i miei bambini Inglese Scriviamo, scriviamo inglese Vamo se aspettare che rischiamo inglese 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 inglese, rischiamo Anglese Cosa voi pensate oggi Inglese? Cosa voi pensate di scrivere inglese? Nei O Nei A Musi usciare? Usi usciare? Jūsų išvalda Jūsų išvalda yra, kad šitas pavadytimas gali tik ir vyras, ir moteri, neskirna Aš teiuo, jeigu jis kalba, inglese suprašau kaip anglas Jeigu būtume arginasi, suprašau kaip Angle Paskui surašysim šituos per unitā 1.12 bet tai filmuosim mes tiek, atskiriai namuose Paskui išdžiūrėjau visi kartu Inglese Sono di Londra Sono di Londra Londra yra itališkas pavadinimas Londono Londra yra tradiciniai miestų pavadinimai ir nieko nepadarysi Taip jie ir vadinasi Kai kurie lietuviškai visada yra adaptuojami nes lietuviškai mėgsta savo galų neskaiščia O itališkai tiesiog jeigu yra tradicija vadinti pavyzdžiui London Londra Tai tada tai bet jeigu ne tai ne Yra tokių autri Poigu Priešiam kitą Si 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 Aplaudo 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 Bene Bene Klausykimas Buongiorno Io mi chiamo Lara Rodríguez Lara Rodríguez Lara Rodríguez Ja minčiu Ne Ne Sapu kaliktu kėt mintis Negrįškime Sono Spaniola 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 Arsupraanta kasi la Spaniola Spaniola Ispane Ispane Spaniola 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 Aš tu savo Spaniola Te rečia kad rečiaus i diras sakitu spa Spaniolo Spaniolo Giuse Dove ��고 Decistila Spani Sta Sa Si Lasania Las Engineers Spaniola Sono Spaniola Io scoprije A chaded I Dove Dove O Ispane Dove Pogainen Lietuvia Dove Ispane Ad Madriga Bene, uscire un inglese e spagnolo con norsi, per cui passi sullessi il mio cuore il gero Raffiti, e piaccia un'altra linea. Si, si, tu. Bene, così, qui. Bene, così qui mesi venite a spesso, sai ne buona lingua? Ne buona lingua? Ciao, io mi chiamo Stefano Lessner, sono... Stefano Lessner, Stefano Lessner. E qui stiamo? Sono tedesco. Tedesco, ora. Tedesco. Tedesco e il neppadada? Tedesco, tedesco... Solo di Berlino. Berlino, Berlino padada. Tedesco, ora? Tedesco. Cresca? Vochiettia. Vochiettes. E io ve lo riesco a passare a chi ti vuochiette? Tedesca. Ok, ora si chiama tedesco, quando si noto, che... Tedesco, va, Gieke, non è che iniziate. Guarda, l'inglese è un'antica categoria. O tedesco è tipo spagnolo, spagnola. Dà, che c'è la categoria? Vedi chi mi chiede. C'è l'inglese per giù? C'è l'inglese che c'è la categoria? C'è l'inglese tedesco? Voi, non c'è l'inglese tedesco, a giù i tessi i tessi i tessi i tessi i tessi i tessi. Te-de-s-co. Te-de-s-co. Te. Te-de-s-co. Nessun, qui ti pareti che hai tessi? Nessun, qui ti pareti che hai tessi? I scez mei, se c'è l'inglese, te-de-s-co. C'è l'inglese? No. Te-de-s-co. Poi, qui? Benissimo. Ehi, dai, che nasi, per scopini. Oh, bene. Buongiorno. Io mi chiamo Michel Duval. Michel Duval. Sono francese. FRANCESE. Puoi? FRANCESE. Ma ragazzi, cosa è la francese? Te- FRANCESE. Francese? Francese? Francese. Te, quando hai detto mi scrive P? La francesia? Te, quando hai detto da France, France, Francia. A cui hai detto mi scrive P? Pan, mi scrive P? Pįtridote, tu è, P? Kaip čia era? Ti sono, quelle čia era? Kaip čia era? Nebrass, piacetini. Ok, aš chiusem. Jūs vitali. Jūs žinote, kad rida ir kaksa F yra svetimi, lietuvių kalbai. Iki mei dienio, iš visi, nebūvano varutojami. Ir dabar, jeigu jūs turite gimeių kreatiame kaime, da razite come si dice pabricas arba fotografia da to, che F sono stati con la tua garcia e, guardate, non solo francuzia, ma è francisco pranas irà trupinisi fran c'è questo, pranas da vario Alfredo, vissi, giusto non si dice pilnas arba, tipo, c'è una normalità e, guardate, guardate, francese francese c'è virus o moteris? no, no, vissi c'è moteris c'è moteris francese si, si, tu lo dici francese era moteris era virus era virus via c'è moteris inglese francese Z era S parigi 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 qui si benissimo grazie ok prego i smogli ma i smogli giusti e tu e scriversi benissimo non